Un successo planetario, 11 generazioni, pensate un po' per 50 anni di carriera, questa appunto è l'undicesima generazione di Honda Civic. Noi eravamo curiosissimi di provarla e in questo test drive appunto lo faremo, grazie agli amici di Autotrend Bari. Scopriamo subito com'è fatta e poi andiamo ovviamente alla guida insieme a lei. Per il 50esimo anniversario la Honda Civic, come potete vedere, viene evidentemente resa molto più europea rispetto al passato. Lo capiamo principalmente dal frontale, frontale con una mascherina a nido d'ape incavata. Penso di avervela già fatta vedere durante la Design Week di Milano, di quest'anno, del 2022. Guardate un po', è incavata rispetto al muso. Un muso molto aggressivo, ma più pulito, un po' più consuetudinario rispetto a quelli che sono i gusti dell'Europa. Non che le scorse generazioni di Civic non avessero fatto breccia nel cuore di tantissimi amanti del modello, proprio nel vecchio continente. Ma in questo caso abbiamo una falleria full LED di serie, con, come vedete, una firma luminosa ad elle rovesciata in alto, oltre che una conformazione molto sottile che va un po' a raccordarsi con quello che è la linea della mascherina in plastica. frontale aggressivo, con la parte bassa, che richiama un minimo il nido d'ape, come vedete, ed è cattivissima a contrasto con questo blu. Sembra quasi di essere la cospetto della Type R, ma vabbè, non parliamo esattamente di questa in questo momento. Però, come vedete, appunto, questo muso cattivo, cattivissimo. Nella parte laterale, l'auto si contraddistingue per una linea un po' diversa da quanto ci si aspetterebbe, da un frontale del genere, perché è più elegante che sportiva, meno cattiva. E' una linea, per l'appunto, da fastback. Già che mi trovo qui vi parlo, appunto, delle sue dimensioni, perché abbiamo 4,55 m di lunghezza, 1,40 m di altezza e 1,80 m di larghezza, con un passo di 2,73 m, che vi anticipo già perché mi sono fatto già qualche giro dal concessionario fino a qui, e non solo, mi ci sono seduto davanti ma anche dietro, lasciando i sedili nella mia posizione di guida. I 2,73 m di passo sono veramente ottimi e funzionali proprio per il comfort. Pensate un po', appunto, l'auto è stata allungata rispetto a prima. Sempre nel laterale si contraddistingue per i cerchi in lega, che partono da 17 pollici per la versione base, di cui poi vi parlerò successivamente, ma arrivano a 18 pollici, come in questo caso, gommati Michelin Pilot Sport 4. Abbiamo una gommatura 235-40 ZR18 all'anteriore, con questi bellissimi cerchi neri, nero lucido, con 5 razze sdoppiate. Stessa cosa per quanto riguarda, ovviamente, il posteriore, anche per quanto riguarda la calzata di questa Civic. E nel posteriore, appunto, raggiungiamo la vista del tre quarti del retro di questa Civic, abbiamo numerosi elementi che la contraddistinguono. In primis, sempre a livello di sportività, questo diffusore in nero, a contrasto con la verniciatura blu della Civic. Poi, soprattutto, il portellone. Portellone che termina con uno sbalzo, come vedete, con un piccolo spoiler, e ha questa forma tutto a beneficio dell'aerodinamica, perché, ricordiamoci, questa è un'auto ibrida, come ci ricorda anche il badge E-Health, una full hybrid. Cos'altro a mostrarvi? Sempre nel posteriore, la fanelleria cost-to-cost, che, come vedete, è unita al centro di questa fascia rossa. Il logo Honda con l'azzurro all'interno, per ricordarci che è un'ibrida, ma, appunto, direi di aprire il baule, dove ho lasciato, ovviamente, le borse e l'attrezzatura per mostrarvi la capacità reale. Un baule abbastanza capiente per questa categoria. Pensate un po', abbiamo una partenza di 410 litri, e si arriva a battere il divanetto posteriore in configurazione 60-40 a 1220. Non ci sono le batterie, quindi la capacità non è assolutamente pregiudicata dal pacco batterie sotto il baule, perché le stesse si trovano sotto il pianale. Ma un ultimo dettaglio intelligentissimo di questa vettura è il fatto che la cappelliera è divisa in due. Infatti abbiamo una prima parte qui, sottilissima, e un'altra qui, che si svita, anzi si sgancia, scusate, verso il lato. Questo segmento si può rimuovere, ma come vedete è intelligentissimo, perché non abbiamo ingombri, lastre di legno, ricoperte, no. A celare questo LED e la presa a 12 volt, abbiamo appunto questa comodissima cappelliera che con una sola mano possiamo andare a riporre per nascondere il nostro carico. Chiudiamo il baule, molto leggero, e direi che è il caso proprio di dare uno sguardo agli interni di questa Civic. Infatti, nervatura laterale che corre per tutto quanto il side view, diciamolo all'inglese, di questa vettura, quindi appunto la vista laterale, sotto di essa si trovano le portiere. Partiamo dall'anteriore, ho notato delle ottime rifiniture, nonostante i materiali siano per lo più plastici, misti a pelle, con materiali superfici rivestiti in nero lucido, comunque sono ottimamente assemblati, anche la scelta delle plastiche non è niente male. Plastiche morbide, pelle nella parte centrale, ovviamente qui è tutto automatizzato, tutto elettrico, neanche a dirsi. I sedili li ho adorati, li adorerò ancora di più alla guida, ma in questi pochi chilometri li ho già veramente adorati, molto contenitivi, in questo caso sono in tessuto, ma c'è anche il Total Leather, quindi tutto in pelle. Il volante anche, giuste dimensioni secondo me, ma ne parleremo alla guida, ma appunto voglio sedermi per mostrarvi ancora meglio quello che è l'abitacolo di questa Civic. Mi faccio un po' indietro per mostrarvi appunto la vista, il volante, innanzitutto accendiamo un po' la vettura in modo tale da mostrarvi quello che è tutto lo schermo della strumentazione mista, analogico-digitale, digitale nei primi due terzi a sinistra, è analogico sulla destra, magari vi mostreremo un focus infotainment, quindi iscrivetevi al nostro canale. C'è anche una variante da 10 pollici, 10,25 pollici, interamente digitale, mentre al centro, molto simile a quanto abbiamo visto sull'HRV, lo schermo dell'infotainment da 10,25 pollici, un tablet sospeso. Abbiamo plastiche morbide e soft touch in alto, questa bellissima griglia nido d'ape che richiama molto quella trovata all'esterno, con, ovviamente celando le bocchette, con dei rotori fisici spettacolari, mi sembra strano un po' eccitarmi per un dettaglio del genere, però io li adoro in un mondo fatto di vetture tutte quante digitalizzate, questi rotori belli con del bel grip e una bella aderenza al tatto, sono sempre molto apprezzati, e queste levette in plastica che ci permettono di andare a modificare, come vedete, un po' la direzionalità delle ventole. In basso abbiamo due prese USB, una 12V, una piattaforma che si può anche spegnere, molto intelligente per quanto riguarda la ricarica wireless, per questo sistema infotainment che comprende il navigatore, il telefono, ovviamente la radio, la radio d'hab, la visualizzazione dei flussi di potenza, spero si veda, siamo un po' contro luce, ma anche e soprattutto la connettività wireless con Android Auto ed Apple CarPlay. Questi appunto sono i sedili. Tra le caratteristiche che voglio mostrarvi c'è anche, questa parte del tunnel centrale con il selettore del cambio automatico, dell'ECVT più che altro, bisogna un po' abituarsi all'utilizzo di questo piccolo selettore, perché in drive è molto facile, neutral e park anche, quindi parcheggio è in folle. L'unica incertezza me l'ha data un attimo la retromarcia, ma solo all'inizio, penso che dopo i primissimi chilometri di guida, io mi possa già abituare a questa esperienza. selettore delle modalità di guida, freno di stazionamento elettrico e brake hold, oltre a un vano portoggetti con una modulabilità di questo cassettino. Ma direi di spegnere un attimo la Civic, usciamo insieme, l'auto mi dice di controllare i sedili posteriori, però io girerò la telecamera per andarvi a mostrare come si sta dietro, in primis a livello di accesso a bordo. Allora, devo dirvi che io ho semplicemente sfiorato con la testa, non ho veramente toccato, guardate quanto spazio mi rimane, io per darvi un po' di contesto sono alto 1,85 m circa, ho lasciato il sedile del guidatore secondo la mia posizione di guida, con le sue regolazioni manuali, e guardate un po', girando brevemente la telecamera, vi mostro quanto spazio ho, quindi mi rimangono due dita e mezzo di spazio, quindi non tocco neanche lo schienale anteriore, spazio per i piedi ce n'è veramente a sufficienza, non so tanto per quanto riguarda qui al centro, per una persona alta come me, anche perché abbiamo una seduta, uno schienale un pochino più in fuori, un pochino più, se vogliamo, dritto, e non un po' più disteso come per i passeggeri, meno incavato, un tunnel centrale piuttosto alto, ma comunque al centro abbiamo due bocchette per il clima e due prese di tipo USB A. Adesso però, questa è la plancia, è in generale come si presenta la nuova Honda Civic 2022-2023, è arrivato finalmente il momento di metterci alla guida e provarla insieme. Allora, andiamo per ordine. Posizione di guida, la sto adorando. Ho potuto regolare secondo le mie caratteristiche, sia il volante, sia il sedile, altezza, profondità, inclinazione schienale e quant'altro. I fianchetti mi piacciono veramente tanto perché sono davvero avvolgenti, non duri perché non stiamo parlando di sedile a guscio. A livello di visibilità il cofano è abbastanza spiovente, è vero da qui le grosse nervature, e ho tutto sotto controllo per quanto riguarda l'anteriore, infatti i montanti sono veramente stretti. Nel posteriore un po' meno perché il 1.8 in configurazione fastback è molto spiovente, però comunque abbiamo la telecamera dall'ottima definizione qui nello schermo dell'infotainment che ci aiuta molto, soprattutto in fase di parcheggio, mentre in fase di guida abbiamo il sensore dell'angolo cieco, dei buoni specchietti a livello di superficie riflettente e quindi non avremo nessun tipo di problema. Ma andiamo al suono, come si guida questa Honda Civic? Anzi, come si fa a guidare? In Honda hanno fatto veramente un ottimo lavoro perché l'hanno irrigidita ma allo stesso tempo alleggerita. Tutto ciò si traduce in un comportamento di guida molto equilibrato ma per nulla floscio, anzi l'auto è veramente attiva dal punto di vista dinamico. L'assetto è rigido al punto giusto, devo dire che le asperità del fondo stradale qui a Bari, tipo radici degli alberi, tombini in superficie e quant'altro, le assorbe veramente bene ma senza scomporsi perché il comportamento di guida è sicuro, quindi confortevole al punto giusto anche se la sua taratura, la taratura delle sue sospensioni con un MacPherson anteriore e un Multilink al posteriore non porta chissà quanto comfort, quanto più che altro un'ottima dinamica di guida, veramente coinvolgente. Buono l'inserimento in curva, divertente anche grazie al volante che è davvero preciso e sembra anche piuttosto diretto, con un giusto carico che si può anche modificare tramite una delle tre modalità di guida. Quali sono queste tre? Anzi queste quattro. la prima è Econ, quindi quella più economica, quella un po' più parsimoniosa, poi c'è la norma che è l'equilibrata, la Sport che rigidisce il volante ed è veramente un tocco, anzi fatemelo fare perché sinceramente l'ho preferita in questa configurazione, con il volante appunto più rigido e la risposta del motore più pronta a parità di pressione sul pedale del gas e infine c'è Individual che ci permette appunto di modificare risposte dello sterzo e della trasmissione. Di livello l'impianto frenante nel suo mordente, ovviamente non stiamo parlando di freni magari come quelli che potremo provare, chissà, incrocio di rita il più presto possibile sulla Type R, infatti i nostri polmoni non verranno sputati sul parabrezza, ma comunque veramente di livello da notare il fatto che essendo una full hybrid abbiamo la frenata rigenerativa che va a ricaricare il pacco batterie e quindi più o meno il primo terzo della pressione del pedale di sinistra perché non abbiamo la frizione e tutto di frenata rigenerativa. La frenata vera e propria, quindi sui pompanti, avviene dal secondo terzo in poi. Se invece, come ho detto all'inizio, questa Honda Civic più che lasciarsi guidare da noi ci guida, parliamo appunto del capitolo ADAS con la suite Honda Sensing che è disponibile di serie su tutte le versioni. Abbiamo diversi sistemi di sicurezza e assistenza alla guida come ovviamente il cruise control adattivo con limitatore di velocità, oltre al sensore dell'angolo cieco e il mantenimento di corsia, tutto quanto insieme alla lettura dei cartelli stradali e del limite di velocità. Oltre a questo la vettura è disponibile con 11 airbag, veramente tanti, quindi anche dal punto di vista della sicurezza oltre che della dinamica di guida questa Civic è veramente di livello. Il capitolo dinamica di guida l'abbiamo affrontato, il capitolo tecnologia di bordo anche e ampiamente non ci resta altro da fare che parlare di ciò che scalpita là sotto. Infatti sotto il cofano motore abbiamo un 2000 benzina 4 cilindri abbinato a due motori elettrici. La potenza complessiva di questo sistema full hybrid è di 184 cavalli che portano la Civic ad una velocità massima di 180 km orari, quindi nulla di esorbitante a livello di cifre ma comunque di tutto rispetto per quelli che sono i limiti del codice della strada con un'accelerazione niente male nello 0-100 staccata in 7,8 secondi. Ad un'accelerazione del genere veramente ottima per un segmento del genere il segmento C di questa nuova Honda Civic è data dai 315 Nm di coppia sprigionati tutti sulle ruote anteriori ma anche e soprattutto grazie a questo sistema full hybrid infatti il badge sulla vettura recita i HEV quindi i Hybrid Electric Vehicle un'auto con un piccolo pacco batterie da circa 1 kWh che va a ricaricare il motore elettrico anzi uno dei due motori elettrici l'altro serve appunto da generatore di corrente per questa Civic full hybrid ed è proprio ripartendo dal semaforo nel totale silenzio che voglio parlarvi di come si muove concretamente questa Civic non voglio tornare sul capitolo dinamica di guida quanto più che altro le modalità perché se è vero che ce ne sono 4 e con normal sport individual ce ne sono ulteriori 3 in cui l'auto marcia infatti il motore termico quasi mai è collegato alle ruote infatti la vettura si muove in questo momento siamo su 30 km di velocità più o meno e andiamo in EV quindi Electric Vehicle in guida 100% elettrica quando serve viene acceso il motore termico montato in posizione anteriore ovviamente semplicemente per generare potenza ed energia nel sistema ibrido quindi l'auto si muove effettivamente in elettrico con una generazione di energia a benzina quando serve però magari quando mettiamo in modalità sport e lo metterò dopo nel finale del video sentiamo tutti i giri del motore giri che però parliamo sempre di un CVT ma un ECVT un cambio automatico chiamiamolo cambio automatico per comodità e per velocità che simula i giri del motore non sono veramente collegati è un CVT come quelli che conosciamo sempre ma con un effetto scooter tra virgolette quindi il trascinamento del CVT che è stato di molto ridotto e a ciò contribuisce appunto questa simulazione dei giri motore come se ci fosse un cambio marcia in ingranata o in scalata in questo momento se lo sentite è stato attivato il motore termico perché evidentemente non c'è abbastanza energia immagazzinata nel piccolo pacco batterie e poi appunto una frizione andrà a compiere il lavoro di collegare effettivamente il 2000 benzina alle ruote un sistema molto intelligente sviluppato da Honda su questa undicesima generazione di Civic riguarda il rilevamento automatico delle condizioni di guida l'auto infatti rileva quelle che sono le curve, i tornanti o comunque i rettilinei e adatta automaticamente i giri del motore per fornire più o meno potenza alle condizioni di guida in cui ci troviamo e quindi migliorare di gran lunga proprio l'efficienza di guida ultimo capitolo quello dei consumi beh qui io ci vado sempre un po' con i piedi di piombo quando si tratta di far rispecchiare quelli che sono i consumi dichiarati a quelli effettivi ma in questo caso mi devo sinceramente ricredere perché la casa secondo il ciclo VLTP nel misto dichiara 4,7 litri su 100 km quindi circa 21 km litro ragazzi non so come dirvelo io nel misto strada statale strada extraurbana scorrimento veloce in città ho registrato attualmente me lo dice il computer di bordo 4,9 litri su 100 km non stando neanche così attento infatti ho cambiato spesso dalla modalità Econ alla modalità sport per divertirmi un po' ma soprattutto per parlarvi della sua dinamica di guida e quindi 4,9 barra 5 litri su 100 km sono 20 km litro che nel misto è eccezionale rimanendo invece in città la media reale è tra i 25 e i 28 km litro che è sinceramente da lasciare a bocca aperta ora però prima di tornare alla base per prezzi e considerazioni finali ve l'avevo promesso voglio farmi un po' sentire come canta questo 2004 cilindri benzina quindi rimetterò in modalità sport sento già subito a parità di pressione il gas una risposta più pronta dell'acceleratore tra l'altro non vi ho detto che dietro il volante bimpedal che non servono a cambiare marcia in quanto abbiamo un rapporto fissio con le CVT quanto più che altro a permetterci di regolare la frenata rigenerativa ma appunto siamo in curva un ingresso ricurva eccezionale l'auto non si scompone minimamente un ottimo comportamento su strada veramente sicuro ma allo stesso tempo molto divertente e a livello di partenza al semaforo invece ok siamo arrivati al limite calmiamoci ma devo dire che è veramente pronta e qui ancora una volta inevitabilmente ci entrano in aiuto i due motori elettrici e in generale il sistema full hybrid di questa Honda Civic ora però veramente è arrivato il momento di tornare alla base per le considerazioni finali i prezzi per la Honda Civic di undicesima generazione partono da 36.900 per quanto riguarda la base Elegance già molto accessoriata con Adas full led e quant'altro si sale a 38.000 per la Sport e a 41.400 euro di partenza per quanto riguarda la top di gamma Advance a noi è piaciuta veramente tanto non solamente per quanto riguarda la dinamica di guida ma anche per l'efficienza i consumi un'auto che va praticamente ad aria quindi un'auto pienamente promossa in queste prime impressioni di guida oltre a questo vi chiedo di farci sapere voi cosa ne pensate se l'avete magari già provata se volete darci le vostre impressioni o se la state aspettando perché no sarete tra i nuovi proprietari tra i milioni di proprietari anzi di questi suoi 50 anni di carriera se questo video vi è piaciuto appunto fatecelo sapere nei commenti lasciateci un bel like perché per voi è gratis ma per noi è veramente tanto importante com'è importante che voi vi iscrivete al nostro canale e attiviate la campanellina per le notifiche oltre a questo se vi va seguiteci anche sui social perché ragazzi siamo veramente ovunque abbiamo anche un sito web e il nostro nome è identico anzi l'url del sito web è identico al nostro nome sui social wedrive.tv grazie a tutti 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 grazie a tutti